Qual è la prima luce da acquistare per fare foto e video? Una domanda che molti di voi si sono posti, una risposta che finalmente troverete qui. Sigla e cominciamo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. Per chi è nuovo, perché magari è trovato questo video e sta muovendo i primi passi in questo settore, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video, ma soprattutto rimanere aggiornate con tutte le varie uscite che ci saranno nei prossimi mesi. La prima luce, la domanda che tutti quanti si fanno e che molte volte mi avete posto all'interno di un video. Ci sono mille luci ormai sul mercato e sicuramente è difficile capire quale scegliere e perché in base alle vostre esigenze. Qui studio ne abbiamo provate tantissime, abbiamo fatto le nostre scelte e finalmente facendovele vedere qui fisicamente vi spiego cosa acquistare, il perché, ma soprattutto a che cosa stare attenti, specie per chi magari vuole cominciare a trasformare questa passione in un lavoro. Cercheremo di essere i più dettagliati possibili, troverete il prezzo, ovviamente aggiornato a quando lo stiamo guardando. Come sempre, se volete essere aggiornati sui prezzi, vi lasciamo in descrizione i prodotti di cui parleremo e il canale Telegram dove ogni giorno pubblichiamo le offerte di tutto quello che va al prezzo più basso di sempre. Quindi se non volete perdervi nessun canale di prezzo, mi raccomando, seguite anche il canale Telegram. Ma cominciamo! Come vi ho detto prima, si possono trovare tantissime luci e sceglierle è molto complesso, sia per il tipo di prodotto che stiamo andando a comprare, sia per il tipo di luce che poi otteniamo su noi stessi. Qui sul canale ci sono un paio di tutorial dove vedete quello che noi utilizziamo, ma quello di cui sono certo è che molti quando iniziano fanno due acquisti. O il classico pannellone LED RGB marcio in kit della New Wear 3x, oppure quei softbox con all'interno le lampadine, questa è una di quelle, perché è tutto in uno, c'è già lo stativo, c'è già il softbox, eccetera, eccetera, eccetera. Solitamente le soluzioni a quale si punta quando si inizia sono due. O il pannellone LED come questo, questo qua è della New Wear RGB, ma tendenzialmente la versione standard costa su una sessantina di euro, per due motivi. In primis va batteria, qua dietro potete montare le vostre batterie, in secondo luogo fanno una luce tendenzialmente diffusa e occupano poco spazio. Soluzione che consiglio, tra virgolette, a chi magari deve fare dirette streaming o a setup molto compatti, dove può trovare in questa luce qualcosa di diffuso, comodo, ma soprattutto che non occupa troppo spazio. L'altra soluzione a cui si punta sono queste robe qui, queste lampadine che si attaccano a un porta lampadine classico, che sono tendenzialmente dimmerabili, che hanno a volte setup RGB, eccetera, o che sono già incluse all'interno di pacchetti con stativo, softbox, eccetera. Due criticità. Su questi qui ovviamente avete tutto in uno e da qui non uscite, non potete montarci nulla, modificatori, niente, ma fanno una luce bene o male diffusa e possono essere una soluzione ottimale per chi, al posto di una ring light, che io continuo a sconsigliare perché a me l'effetto circolare negli occhi fa schifo, può trovare qualcosa di tutto sommato decente, che fa una luce diffusa, in alcuni casi anche RGB, ideale per o illuminarsi appunto per delle streaming o illuminare magari uno sfondo occupando poco spazio. Il problema invece di queste luci qua è che spesso i kit che costano tra i 100 e i 190 euro, in base a quanti ne comprate, cosa contengono, eccetera, è che sono iperfragili, quindi se non state super attenti li spaccate e soprattutto se spaccate quella roba lì dovete poi comprare altre lampadine o un altro portalampade, cioè diciamo che poi diventano quelle spese che magari all'inizio vi avvantaggiano ma nel lungo periodo create solamente rifiuti e robe che poi non vi servono più, anche perché quei softbox sono agghiaccianti e spesso sono sostativi tremendi. Per come sono fatto preferisco consigliarvi delle robe su cui investire nel lungo periodo piuttosto che comprare una roba che costa 50 euro e poi due mesi dopo dovete comprarne un'altra. Quindi tolta la parte di immondizia, perché fidatevi che poi questa roba qua la butterete, non la userete mai più, passiamo alle cose veramente professionali, spendendo comunque poco che possono però durarvi nel tempo. Allora, stativo alla mano, partiamo con la mia preferita, quella che continuo a consigliare, è uscito da poco il modello Mark II ma lei rimane a mio avviso la luce da avere. Il Godox SL60, questo è il Mark I, come ho detto è uscito il modello Mark II che costa circa una ventina di euro in più, ma qua siamo una luce che tendenzialmente sta fra i 100 e i 140 euro in base a quando scende in offerta. Perché vi consiglio questa luce? Per me ha due motivi principali. In primis è un po' più solida, soprattutto è molto grande ma dopo vedremo soluzioni più compatte, ma per una particolarità, ha la possibilità qua davanti di montare ogni tipo di modificatore, qualsiasi roba. Vi lascio qua sopra un video dedicato dove potete vedere tutto quello che utilizziamo noi, ma la cosa molto figa è che appunto, un comprato una luce, proprio come una macchina fotografica, ci montate sopra vari obiettivi con i quali modificherete la vostra luce, la diffondete, la renderete più dura, più morbida e quant'altro. Cose che mi piacciono è che qui dietro non ci sono connettori strani ma c'è una VDE classica che si può trovare praticamente ovunque, quindi anche se rompete il cavo che vi danno si trova molto facilmente, costa molto poco ed è tutto fatto bene. È una luce molto semplice, 60 watt di potenza, non ci illuminate chissà cosa, ma per quanto mi riguarda, per fare cose di questo tipo, quindi video su YouTube, non lo so, dovete parlare a una camera, fare un videocorso, eccetera, questa può essere la soluzione ottimale per cominciare. Spendere poco e avere un prodotto che, tutto sommato ragazzi, io questa ce l'ho da 4-5 anni, il suo ancora lo fa. Pecche che ha, è grande, è costruita in plastica e soprattutto appunto un po' vecchiotta, non ha controlli app, eccetera, mentre la versione Mark II, per chi li volesse, può essere gestita via Bluetooth con l'app dedicata di Godox, quindi se volete fare un acquisto che può durare un po' più nel tempo, vi consiglio quella versione lì. Esiste anche, costando un po' di più, la versione B-Color, per chi volesse sia luce calda che luce fredda, può essere una scelta, altrimenti per chi vuole spendere ancora meno, lei scalda poco, vi comprate un set di gelatine e rendete questa luce leggermente più calda, vi lascio anche quella in descrizione. Luci di questo tipo, che vengono chiamate Cobb, per chi volesse saperlo, con innesto Bounce, è pieno il mondo. Ce ne sono un milione, ne abbiamo provate tantissime. A che cosa stare attenti e perché? Uso un esempio di una luce un po' vecchiotta, ma che è ancora abbastanza moderna, che è il Forza 60. Come vedete, stessa quantità di luce prodotta, leggermente più compatto rispetto al modello precedente, ma con un enorme problema, e cioè che per montare i suoi modificatori, dovete montarci un adattatore sopra. Come vedete, questo qua si toglie, la luce così risulta molto compatta, ma qua sopra potete montare solamente cose proprietarie Nanlite, mentre i modificatori che trovate ovunque nel mercato sono standard Bowens. L'unico modo per farlo è avere un adattatore di questo tipo, che solitamente viene dato in confezione, ma, come in questo caso, se rompete, si rovina, non funziona più, voi vi trovate con una luce che potete praticamente non usare. Quindi il mio consiglio è non acquistate luci che non abbiano il Bowens mount integrato all'interno di questa luce. Quindi evitate quelli che sono tipo i Colbor 60, luci ipercompatte che però appunto devono poi montare questa roba qui, perché fidatevi, è comodo, magari risparmiate, eccetera, ma poi questo lo dimenticate, lo rompete, lo perdete e vi ritrovate a dover spendere magari 20-30 euro per ricomprarlo su una luce che fondamentalmente, oltre in questo caso essere leggermente più compatta, non cambia nulla rispetto a un SL60. Vantaggi di questa? Ovviamente è molto piccola. Per chi sta cercando luci di questo tipo, tranquilli, ho la soluzione per voi. Ok, se vogliamo appunto una soluzione più compatta, molto simile a questa, quindi Bowens integrato, 60 watt di potenza, spendendo un po' di più, perché da qui passiamo a 100 a 200, la mia alternativa perfetta è lui, il 60X o il 60D di Amaran. Perché? Beh, due motivi. Innanzitutto dimensioni. Come vedete siamo di fronte a una luce decisamente più compatta, costruita molto bene, full plastica, ma con possibilità di montare V-lock per chi volesse portarsene in giro. Qua ci attacchia una batteria, cavetto, e lei si alimenta in maniera portatile, lei non può farlo. Ma soprattutto, ovviamente salta subito all'occhio, al di là delle dimensioni, la possibilità di montare appunto modificatori Bowens direttamente dalla luce, perché questo qua è già il suo mount. Siamo di fronte a una luce bella compatta. 200 euro per lei, 240 più o meno per la versione B-Color, quindi se vi serve il B-Color perché volete scaldare la luce o raffreddarla, questa può essere una grande soluzione. Vi arriva in kit con la borsa alimentatore a vite, quindi bello saldo, differente rispetto al Godox, ma comunque anche questo standard e si trova praticamente ovunque. E soprattutto, cosa molto figa, questo qua, già da questa versione qui, ha la possibilità di essere linkato all'app, che funziona veramente molto bene. Noi siamo grandi amanti di questo brand. Soprattutto avete una luce bella pro. Ci abbiamo fatto già un sacco di roba, Amazon Music ha fatto i contro con questa luce qua, nella prima edizione, quindi io ve la straconsiglio. È una versione molto portatile e anche su questo tipo qua ce ne sono un milione, ragazzi. Perché vi consiglio Amaran? Perché sono sicuramente molto più affidabili, un brand riconosciuto a livello internazionale, perché molti altri brand che troverete su Amazon, vi prendo questo esempio, questa è una luce di Sirui, che fa cavalletti in teoria, è lenti, ma si è messa a fare anche luci. Questa costa 289 euro, siete di fronte, sì, a una luce in alluminio, a differenza della plastica. State attenti perché ci sono brand che appunto costano di meno, ma che sono decisamente molto più validi. Qui siamo di fronte alla stessa identica luce, anche nelle dimensioni praticamente, ma qua spendete 40 euro in più rispetto a lei, che è comunque bicolor, ma che è di un brand molto più affidabile, con un'app molto più affidabile soprattutto. Comunque per chi non volesse acquistare le V-Lock, sapete che comunque all'interno vi danno anche la possibilità di attaccare l'NP700 di Sony, eccetera, eccetera. Vi lascio anche quella in descrizione. Lo attaccate qui, questo lo attaccate dietro, e avete un faretto portatile Bowens. Quindi per me lui rimane comunque la soluzione migliore da acquistare se state iniziando e volete spendere relativamente poco. Ok, se la compattezza dell'Amaran non vi basta, volete qualcosa di ancora più piccolo, ho la soluzione per voi, ovviamente, con alcune mancanze. Ed è questo qui, eccolo qui, lo Zhiyun 60, che è una luce uscita veramente da poco. Come vedete a livello di dimensioni è diverso, parliamo di una luce praticamente grossa la metà, anche questa ventola, anche questa bicolor. Siamo di fronte a un prodotto veramente, veramente interessante, ideale per chi vuole questo tipo di potenza qui, ma la stessa potenza che trova anche qui, quindi non male, direi. E allo stesso tempo con determinate cose molto utili, come ad esempio l'alimentazione via USB-C, che per luci così compatte può fare la differenza. Questa si alimenta con lo stesso cavo con cui si alimenta questa roba qui, quindi figo, lo trovate in confezione. Ovviamente con delle mancanze. Questa non ha l'attacco Bowens, anche qui troviamo un innesto proprietario. A differenza però delle luci che abbiamo visto prima, qui è giustificato dal fatto che la compattezza deve essere garantita appunto dalla possibilità di poterci montare cose proprietarie che sono molto più piccole. Nel kit completo, quello da 289€, trovate già dei piccoli modificatori proprietari di Zhiyun, che potete attaccare. Questa ad esempio è una piccola parabola diffusa, che può tornare utile magari per fare cose molto rapide, attaccarlo magari a dei piccoli setup, oppure la usare come parabola per rinforzare la luce che esce fuori. Ma allo stesso tempo, e questo è il motivo per cui vi consiglio di comprare il kit almeno base, che contiene appunto i modificatori, trovate questa roba qui, che è appunto un adattatore con il quale andate a modificare la luce da in essere proprietario a appunto mount bones. Come vedete è tutto un po' più scomodo, ma potete andare a montare poi il mount sullo vostro stativo, così che la luce non abbia il peso eccessivo caricato sopra, ma si vada a distribuire all'interno di questo adattatorino. È una soluzione ottimale? Per me no. Diciamo che qui comprate la qualità costruttiva e la compattezza di un prodotto, sicuramente molto più caro rispetto agli altri, perché comunque stiamo parlando di una luce che costa 80 euro in più rispetto al 60D che abbiamo visto prima, ma è un setup molto carino che per alcuni può essere fondamentale. Dato che stiamo parlando di Zhiyun, su queste due luci qua ci sarebbe da dire tantissimo perché sono veramente comode, vi segnalo anche lui, che è la versione da 100W, sempre bicolor, un po' più potente rispetto a lei. Ha il vantaggio che monta questo sistema di power bank, molto molto figo perché si può attaccare e staccare, ma soprattutto USB-C, quindi questa roba potenzialmente ve la buttate nello zaino e può sempre tornare utile per caricare una macchina, un telefono, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo appunto vi permette di utilizzare la luce così, a mano libera, per andare a illuminare. Qui siamo di fronte a una luce che costa circa 400 euro nel suo kit completo, però ragazzi, cioè, avete 100W di potenza in un palmo di mano, grosso apprendente come un iPhone, molto figo, ventola integrata, ci montate gli adattatori, ci potete montare sopra qualsiasi cosa. Si può fare tutto con questa roba qui? A mio avviso potenzialmente sì. Diciamo che però la compattezza è sinonimo anche del fatto che poi se ci volete attaccare softbox molto grandi per ottenere risultati tipo questo, e vi lascio il video del nostro studio se volete scoprirlo come è stato fatto, diciamo che poi la compattezza viene a meno, perché comunque poi tutto quanto richiede di avere oggetti molto molto grandi. Quindi capite se è fondamentale essere compatti oppure è una bella moda e vi serve solamente magari una luce iperleggera e queste pesano veramente poco da portarvi sempre con voi. Può essere sicuramente una soluzione che a discapito appunto di prezzo e costruzione per quanto riguarda adattatori eccetera fa la differenza in molte situazioni. Io ho trovato gente che se l'ha acquistata perché magari almeno si porta sempre una luce con sé. Pregi e difetti della cosa, come in tutto. Ok, voglio dedicare l'ultima parte del video invece ai videomaker o fotografi, a chi vuole magari delle luci leggermente più potenti. Parliamo di 100 e 200 watt di potenza che tendenzialmente sono lo step successivo ed è quello che io personalmente vi consiglio di utilizzare. Esistono anche qui di ogni brand Amaran Godox, qualsiasi brand fa luci un po' più importanti. Io qua ne ho tre e vi spiego un pochino a cosa stare attenti. Prendo per esempio la mia luce preferita per iniziare, quella che straconsiglio a chiunque stia muovendo i primi passi in questo settore e voglia cominciare a fare degli investimenti sensati, che è l'Amaran 100D. Uscito adesso dalla versione S che semplicemente va a migliorare un po' la qualità della luce, ma se lo trovate lui, prendete lui senza problemi. Esiste anche qui versione bicolor. Siamo di fronte a una luce da 200-240 euro in base all'offerte Amazon, ma abbiamo più watt di potenza. Anche qui innesto Bowens integrato, abbiamo dei cavi un po' più solidi perché si incastrano, hanno una sicura, non sono piccoli. Insomma, c'è tutto quanto un sistema differente. L'innesto qua è in metallo, a differenza della plastica che troviamo ad esempio sul 60 di Godox, ma soprattutto ragazzi, cominciamo a muovere i primi passi in luci che sicuramente hanno una qualità del colore differente, perché fra il 60 di Godox e questo c'è un abisso per quanto mi riguarda. E soprattutto anche nella qualità costruttiva degli agganci, benché in plastica molto dura, siamo di fronte delle luci decisamente più importanti. Qui troviamo ovviamente l'app di Amaran, che per me è una delle migliori, ed è una cosa super importante, fidatevi che magari all'inizio non ci pensate, ma poi diventa fondamentale avere, quando magari cominciate ad avere, anche solo banalmente come in questo caso, quattro luci e non una. Ma soprattutto, cosa che è importante ogni tanto da guardare, è una luce professionale da far vedere al vostro cliente. So che molti mi diranno, eh ma chi se ne frega l'importante è il lavoro, eccetera. Fidatevi di me, che quando comincerete a lavorare nei posti veri, grandi, con gente che guarda anche ste cose, perché è giustamente ignorante, non è il suo, arrivare con dei prodotti che danno quel look professionale, può fare la differenza. Ragazzi, nel mondo l'abito falmonico, chi vi dice il contrario, probabilmente non l'ha ancora capito. Quindi, questo tipo di luce qua, per me, fa la differenza, sia a livello di impatto per il nostro cliente, sia perché effettivamente funziona bene. I controlli sono dove devono essere, la qualità costruttiva rispecchia, il prezzo che ha questo tipo di prodotto, e soprattutto fa una bella luce. Si lavora molto bene, io mi ci sono sempre trovato alla stragrande, e ve lo consiglio a mani basse. Ci sono soluzioni più leggere, costruite relativamente anche meglio, perché qui siamo di fronte ad alluminio, qui in plastica, ma che, a mio avviso, nel lungo periodo possono danneggiare il vostro lavoro. Per il semplice fatto che, su un sistema come Amaran, Apodur, eccetera, avete una quantità di prodotti infinita, dai tubi, alle lampadine, a tutto quello che banalmente usiamo noi, Flexi Light, Lucida 600, 1200 W, eccetera, che lavorano tutte quante con la stessa app, con la stessa assistenza, con gli stessi rivenditori, e soprattutto, se avete dei problemi, queste luci qui, le trovate indubbiamente anche all'interno di un rental, quindi vi serve la stessa luce, vi serve la stessa tipo di cromia, vi serve lo stesso sistema, questa roba qua, nei rental, si trova. Dal 300D, fino al 1200 di Apodur, lo trovate senza problemi. Questa roba qui, no, io adesso prendo Colbor come esempio, per il meme, eccetera, ma un milione di luce che avete visto anche oggi, comprate roba affidabile, che soprattutto la gente riconosce, perché anche quando fate un preventivo, e vi chiedono magari una scheda dettagliata, scrivere che usate Apodur e Amaran, sono brand riconoscibili, che scrivete che magari utilizzate Colbor, eccetera, boh, non lo so. Poi fate voi, e non voglio aprire file, e robe del genere. Esiste sempre, anche qui, la versione anche da 200, per chi volesse un po' più di intensità, e sia bicolor, che non bicolor, quindi se volete risparmiare, e volete magari montarci delle gelatine, eccetera, va benissimo lei. Per quanto mi riguarda, per fare parlati di questo tipo, va benissimo la versione non bicolor, tanto tendenzialmente, si fanno sempre a 5600, questi parlati. Se lo volete un po' più caldo, cambiate la temperatura colore della vostra camera, o fatelo in post produzione, no problem. Ma, vi voglio segnalare anche, perché ce l'abbiamo, questa roba qui, che è il 120D, di, Smorrig. Smorrig da un po' di tempo fa delle luci, vi ho fatto un video dedicato, anche che trovate qui sopra. Ci sono soluzioni interessanti, e ne sta facendo parecchie, anche qui faretti, tubi led, cose e quant'altro. Per me ci sono solo due enormi problemi. In primis, l'avventura di sto coso, fa un bordello atomico, a differenza della sua, che è molto più silenziosa, il che ha due implicazioni. In primis, è che se fate parlare di questo tipo, con microfoni non troppo pro, come facciamo ad esempio noi, rischiate che si senta, è parecchio, ed è un ronzio veramente noioso. La seconda cosa, è che se dovete fare appunto, della roba iper silenziosa, o magari dei piccoli documentari, in spazi dove il silenzio è fondamentale, questo non si sente, questo fidatevi, è veramente veramente fastidioso. Oltre al fatto che, torniamo sempre al solito discorso, Smorrig è buonissima, per tutto quello che è supporti, stativi, cavalletti, cage, eccetera, fa le luci per entrare in un mercato, che al momento sta spopolando. Dato che questa roba qui, costa più di questa roba qui, è vero, questo non è bicolor, ma esiste anche la versione bicolor, ma questo qua costa già 240 euro, a differenza di lui, che ne costa 200, tendenzialmente. Smorrig ha due trappole, tra virgolette. In primi si è apparente sempre in sconto su Amazon, quindi molte volte lo trovate anche a meno, ma la seconda trappola è che appunto, non è un ecosistema, che sicuramente è proiettato al futuro, come quello di Amaran, di Aputure, o di Nanlite, ad esempio, per prenderne un altro. Quindi, spendere magari 20 euro in meno, per prendere questa roba qui, che è identica a questa roba qui, poi vi si ritorce contro, quando magari cominciate a espandere, il vostro bagaglio di luci. Detto questo ragazzi, nessuno ci ha pagato per fare questo video, quindi quello che avevamo consigliato, è pura esperienza personale sul campo, la roba ce l'hanno mandate, altre robe fanno parte della collezione di cose comprate, ma in ogni caso, è fondamentale sapere come muoversi. Mi raccomando, non buttatevi ai vostri soldi, se potete, spendete 20 euro in più, e comprate della roba che vi rimane, non comprate delle cagate, che poi dovete prenderne tre, perché si rompono ogni tre giorni. Se state cercando stativi, supporti, eccetera, vi lascio un video dedicato, dove trovate tutta quanta la mia guida, a che cosa comprare, cosa guardare, e perché. In futuro, vorrei fare un video molto simile sulle luci pro, cosa utilizziamo, magari su un set full aperture, per farvi vedere il perché, scegliere un ecosistema è così importante, ma soprattutto, ragazzi, affidatevi a brand validi, solidi, e che fanno questa roba da anni, perché con questa roba, vi ricordo sempre, che molti di voi, ci lavoreranno, e la professionalità, passa anche da questa roba qui, non solo dallo spendere 20 euro in più, o in meno, e non solo da un gancetto migliore dell'altro. E' molto, molto importante, trasmettere la professionalità, anche con attrezzature di questo tipo, che sono sempre dietro a una macchina fotografica, ma che poi fanno la differenza. E ricordatevi, come dicono tantissimi, alla fine questo lavoro, si tratta solamente di dipingere con la luce, quindi, la luce è la cosa fondamentale, non spendete soldi di merda, e soprattutto, non scrivete queste frasi cringe, nei vostri profili Instagram, da fotografi. Detto questo, come sempre, queste luci qua le potete usare sia per foto, che per video. I cavalletti e gli stativi sono standard, quindi mi raccomando, non scrivetemi che su che stativo lo monto, su qualsiasi stativo sulla faccia della terra. Mi raccomando, descrizione, tutti i link con tutti i prezzi aggiornati, se qualcosa è sceso di prezzo, ben venga, tendenzialmente tutto quanto scende di prezzo, man mano che si avanza, quindi le troverete sicuramente a meno. Canale Telegram, in descrizione, con tutte le offerte, io questa roba qua, la segnalo sempre, quindi seguitelo, mi raccomando. Detto questo, like, iscrizione, campanella inattiva, ma soprattutto nei commenti, fatemi sapere se volete altri video di questo tipo, su prodotti con il quale iniziare. Noi ci vediamo come sempre, ogni giovedì alle 18.30, con un nuovo video. Ciao.